Assessore Varasano, una mostra annunciata, rimandata, pandemia, però finalmente dopo due anni di gestazione Palazzo della Penna apre la mostra su Raffaello. Il mito, la fortuna in Umbria del giovane Raffaello. Esattamente, sì. Nel novero delle celebrazioni raffaellesche nazionali che ha visto tante rinunce comprensibili causa pandemia. La mostra oggi viene inaugurata ed è frutto della tenacia, della professionalità e della collaborazione. La tenacia perché come amministrazione comunale, nonostante difficoltà, siamo voluti andare avanti con ostinazione ed oggi presentiamo questo meraviglioso frutto alla città e a tutti i visitatori. La professionalità che è quella del curatore, del professor Mancini, della dottoressa Maria Luisa Martella e di tutti i collaboratori dell'assessorato alla cultura. Tenacia, professionalità, questi sono i segni più importanti di questa mostra. Una mostra che celebra il legame tra Perugia e Raffaello, tra l'Umbria e Raffaello, un legame sancito dalla storia perché la vicenda personale e artistica di Raffaello è innervata quella della nostra città. Come è noto Raffaello fu allievo di Pietro Perugino e qui realizzò tante opere. Poi però è rimasta una sola opera di cui il comune di Perugia è possessore, l'unica opera che è rimasta qui di Raffaello, Trinità e Santi a Sansevero, che è l'estensione naturale di questa mostra. Una mostra che racconta l'eco della presenza, del mito, della fortuna delle pittore urbinate nella nostra città. È una mostra che, dicevo, è frutto anche di tante collaborazioni perché qui ci sono prestiti provenienti da tante parti d'Italia e dall'estero. Ci sono opere provenienti dall'Accademia di San Luca, dall'Accademia di Raffaello, dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, la Galleria Nazionale delle Marche, da tanti comuni, il comune di Terni, del comune di Pesaro, del comune di Urbino e tantissimi prestatori privati. Quello che ne esce appunto è un racconto particolarmente significativo, arricchito da tre opere attribuite a Raffaello che appunto ci restituisce l'importanza e il legame del pittore urbinate con la nostra città. Un legame in particolare mi sembra significativo è quello dato dalla Madonna del Libro, la cosiddetta Madonna conestabile che fu persa, tra virgolette, nel senso che fu acquisita dai regnanti di Russia e che però conserva un legame in 14 opere che qui sono riproposte e che certificano appunto questo forte connubio tra la città e Raffaello, tra quest'opera La Madonna del Libro, oggetto di devozione che sciaguratamente non venne trattenuta né dal comune di Perugia, stiamo parlando del 1871, né dallo Stato italiano che ritenne le richieste economiche della famiglia conestabile troppo troppo esose. Ecco questo, quest'opera è forse simbolicamente rappresentativa di questo legame, di come una parte questo legame si sia perso e di come vada rinverdito e rinvigorito. A proposito della Madonna del Libro, il Francesco Durante del 53 scrisse in un articolo apparso sulla rivista Perusia che in quel momento l'Italia perdeva un po' della sua anima. Forse è vero perché fu svenduta un'opera di grandissimo pregio di cui ora non siamo più proprietari né come comune né come Stato italiano. Oggi cerchiamo in piccolissima parte di restituire qualcosa, un pezzettino di quell'anima che sentiamo che ci appartiene. Chiudendo con una battuta, sempre per questione di bilancio ci siamo privati di un Raffaello e soprattutto non ci avevamo il minimetro all'epoca. Sì, non c'era il minimetro però c'erano forti problemi di bilancio, sia per il comune all'epoca e il sindaco era Reginaldo Anzidei e il Consiglio Comunale negò la capacità di acquisto al sindaco, la richiesta mi pare fosse di 400 mila lire per tutta la collezione conestabile e poi lo Stato italiano ribadì il no. Ma erano gli anni di Quintinosella e si raggiunse un importantissimo pareggio in bilancio. Questo però è significativo perché oggi abbiamo di nuovo problemi di bilancio e sembrano figli della contemporaneità. Invece ci sono, come dire, dinamiche e difficoltà che si ripetono in epoche diverse. Dottoressa Martello, finalmente la mostra su Raffaello parte. Finalmente ci siamo, infatti. Un appuntamento che abbiamo agognato per lungo tempo. Il lavoro è iniziato ormai due anni fa e finalmente siamo giunti al traguardo con tante difficoltà perché non possiamo nascondere quanto sia stata determinante la pandemia, l'evoluzione pandemica che ci ha costretto addirittura a due slittamenti di date. Poi ci siamo posti questo obiettivo per il 26 settembre. Un traguardo che abbiamo voluto raggiungere con impegno, determinazione, quasi ostinazione. È una tale determinazione che possiamo dire il progetto, diciamo, era costituito da circa 100 prestiti e addirittura in questo caso abbiamo beneficiato di 99 prestiti, di 99 opere, senza che neanche ci sia stato quel normale, naturale calo fisiologico nella contrattazione con i musei o le istituzioni pubblico-private che siano. Infatti abbiamo coinvolto i maggiori musei italiani, non parliamo dei musei civici e non umbri, ma anche le più grandi istituzioni museali nazionali. Devo dire che abbiamo stabilito un rapporto e una relazione di collaborazione, perché non possiamo negare che ci sono stati dei momenti di esitazione, soprattutto da parte di alcuni collezionisti privati o alcuni musei, proprio in relazione alle difficoltà dovute dalla pandemia. In realtà siamo arrivati al dunque e siamo molto soddisfatti perché avevamo posto questo traguardo, non potevamo non rendere omaggio al grande artista rinascimentale, del quale tra l'altro il Comune si onora di custodire un'opera straordinaria nella Cappella di San Severo. Dunque eccoci e speriamo appunto di poter beneficiare di un buon riscontro di critica, ma soprattutto di pubblico. Vi aspettiamo numerosi a Palazzo della Penna a partire dal 26 di settembre e grazie soprattutto a tutte le collaborazioni, a tutti coloro che a vario titolo hanno sostenuto questa grande e impegnativa impresa.